ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario canso glican informazioni commerciali titolare canso ag concessionario medivet snc confezioni canso glican 1 kg canso glican 5 kg formulazione contiene proteine specifiche dell'osso sostanze minerali e composti biologicamente attivi indicazioni complemento alimentare per cavalli può essere somministrato con qualsiasi tipo di alimento posologia fattrici durante il 9 a 10 a mese di gestazione e durante l'allattamento 3 misurini da 15 g puledri 3 6 mesi due misurini da 15 g 7 18 mesi 3 misurini da 15 g 2 anni due misurini da 15 g cavalli adulti per almeno tre settimane due misurini da 15 g fonte codi fa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato ciao